E' pure il pomerino. Basta, è stanca. Basta, eh. Non fare il prepotente, eh, Gerundio. Non è meglio arrotolarsi sull'erba. E poi quando gioca con Peggy, che è un boxer femmina, e tutti incominciano a mordicchiarsi, vanno avanti, non si stancano mai. E anche questa Peggy ha nove anni. So.